Amici, buongiorno! Un filmato molto molto veloce, soltanto per raccontarvi anche qui che, dato che due o tre giorni fa Optolong mi ha autorizzato, anzi mi ha invitato proprio a condividere le informazioni raccolte fino adesso, in questi mesi, sul nuovo filtro che sta preparando, uno dei nuovi filtri che sta preparando, ho reso quindi pubblico un articolo sul mio sito web dove stavo appunto in questo periodo raccogliendo i miei appunti. Quindi questo filmato non è una recensione, non do un voto, darò anche poche impressioni su questo filtro perché è ancora tutto molto prematuro, quindi non ho alcuna fretta di valutare o recensire qualcosa. Quello che però mi faceva piacere condividere con voi sono tutte le informazioni che comunque fino adesso ho raccolto, fotografando con questo oggetto già ormai da diversi mesi, anzi ho fotografato tantissimi soggetti per testarlo, soprattutto perché all'inizio non mi era stato fornito nemmeno il grafico di trasmissione. Per testare un filtro senza il grafico di trasmissione è un po' difficile, però in realtà è stato stimolante perché mi sono dovuto fare un'idea dai risultati senza sapere effettivamente di che cosa si trattasse. Poi è arrivato il grafico di trasmissione, per fortuna nel frattempo io stavo facendo le fotografie, stavo raccogliendo informazioni e in parte ve le sto facendo vedere, vi faccio vedere solo una piccola parte di tutte le fotografie che ho fatto, poi ne arriveranno altre, avremo tempo insomma di parlarne. E con il grafico di trasmissione in effetti ho avuto un pochino conferma di quello che usciva qui, comunque anche già dalle foto. Questo è un filtro in banda larga, ma è una banda larga un pochino più selettiva rispetto al filtro famoso L-Pro, con cui Optolong si è probabilmente fatta il nome, perché questo è uno dei filtri in banda larga, quantomeno in Italia, più diffusi tra gli appassionati di astrofotografia. Questi filtri in banda larga, ripetiamo, per chi proprio non ne sa nulla, sono filtri che cercano di intervenire in un modo selettivo sullo spettro che poi raggiunge il sensore, per cercare di eliminare il meno possibile, al contrario dei filtri in banda stretta che partono dalla prospettiva esattamente specchiata, opposta, quindi tagliano tutto tranne poche cose. Il filtro in banda larga cerca di fare degli interventi selettivi per andare a bloccare il passaggio di fotoni che corrispondono sulle zone dello spettro ai punti di maggiore emissione delle luci inquinanti, quindi delle luci notturne e artificiali prodotte dall'uomo, che ovviamente sono un problema per noi astrofotografi. Guardando il grafico di trasmissione di questo LQF, non so se lo chiameremo LQF, ma simpaticamente, amichevolmente, so che Optolong l'ha rinominato L-Queen, che fa molto ridere, quindi io lo chiamerò L-Queen. Guardando il grafico vediamo che, rispetto anche al confronto con L-Pro, dove vi ho preparato la sovrapposizione qui dei due grafici, manca una parte importante intorno ai 600 nanometri, e quella zona lì corrisponde proprio all'emissione delle lampade al sodio. E infatti queste lampade hanno un'emissione molto concentrata e limitata, soprattutto intorno ai 580 fino ai 600 nanometri. Lo ricordo da un bellissimo studio che avevo letto, uno studio pubblicato nel 2013, che in realtà era un'analisi sull'inquinamento artificiale notturno basata più che altro sull'esperienza visiva e sulle osservazioni astronomiche, e non soltanto l'esperienza visiva umana, ma anche quella legata agli animali e agli insetti che ovviamente vengono disturbati dall'inquinamento artificiale notturno. L'inquinamento artificiale non è soltanto l'impossibilità per noi di osservare un bel cielo notturno, ma è quello anche di andare a minacciare proprio gli esseri viventi che abitano un habitat, vivono un habitat e hanno bisogno di certe condizioni di buio per potersi riprodurre, ma anche per poter magari impollinare, e quindi questo a catena va poi a coinvolgere tanti altri ambiti. Non è il mio tema. Tornando a parlare del filtro, manca quindi questa parte concentrata sullo spettro dei 600 nanometri che quindi tenta di limitare ulteriormente il passaggio di queste luci, è certo che si va a tagliare comunque anche fotoni, a bloccare anche fotoni emessi dall'oggetto astronomico, ma quello che si cerca di fare con questi filtri è di fare quindi dei tagli intelligenti. Si sacrificano un pochino di fotoni dell'oggetto astronomico sapendo che si blocca gran parte dell'emissione artificiale che vorremmo bloccare. Poi se guardate bene di nuovo il grafico di trasmissione vediamo che anche dalla parte, diciamo andando verso gli ultravioletti, lì la trasmissione è stata allungata, estesa rispetto alla trasmissione che aveva le Lepro e anche la zona che contiene, dalla parte opposta del, devo fare così perché sono specchiato nel video, dalla parte opposta del grafico, nella zona che contiene H-Alpha e Zolfo, è stata cambiata un pochino la trasmissione. Trovate queste e altre informazioni sul mio articolo sul sito web, ve lo lascio qui in descrizione se volete leggere qualcosa. Vi anticipo che, prima di tutto, questo filmato sarà vecchio tra un mese, quindi se lo vedete molto più avanti sappiate che probabilmente sono poi uscite le informazioni definitive anche del produttore o comunque usandolo, utilizzandolo, si è andati a finalizzare un pochino quella che è la presentazione reale di questo filtro e dove si collocherà rispetto agli altri. Seconda cosa, le informazioni appunto anche all'interno dell'articolo che vi lascio in descrizione le aggiorno. Le aggiorno man mano che io registro nuovi dati, acquisisco nuove foto, ricevo nuove informazioni dal produttore, quindi anche quello cambia nel tempo. Non ci sono ancora informazioni di costo, non ci sono ancora informazioni legate all'uscita. Questo perché non sono ancora terminate le fasi di test per l'azienda. Quindi per il momento vi saluto, vi volevo soltanto condividere questa piccola serie di informazioni su un nuovo filtro per l'astrofotografia che so che anima sempre molto le discussioni degli appassionati di astrofotografia. D'altronde è normale aspettarsi che ogni anno necessariamente aziende che lavorano in questo settore debbano produrre nuove camere, nuovi filtri, nuove montature. Non c'è sempre una rivoluzione ogni mese, però personalmente trovo quantomeno appassionante e appagante seguire le evoluzioni del mercato, avere anche la possibilità di mettere le mani su questi strumenti prima del tempo per poterli provare e vivere le fasi di test insieme ai produttori. Lo trovo molto divertente e molto appassionante. Vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo incontro.